Il cuore e i polmoni sono a posto, ma sembra sotto shock. Ha subito una forte emozione. Fatelo riposare, ne ha bisogno. Grazie, dottore. Venga. Quel ragazzo è rimasto chiuso in un orfano proprio per sedici anni. Senza un passato, senza un nome. Ha il diritto di sapere chi è. Lasciala stare. Venga qui. Ingegnere, si calma. Lei non deve assolutamente agitarsi. Sono calmissimo. Voglio solo parlare un momento con questa signorina. Per favore, se ho bisogno vi chiamo io. Ha detto che si trovava in un orfanotrofio da sedici anni. Sì. Era la primavera del 45. Gli alleati ci bombardavano. E si preparava all'insurrezione nazionale. Tutti dicevano che la guerra sarebbe finita presto. Ma noi... Noi non ci credevamo e volevamo spostarci in campagna. Noi chi? Io... La mia seconda moglie, Olga, e mio figlio, Emanuele. Suo figlio? Sì. Aveva cinque anni allora. Era un bambino irrequieto. Aveva tanto sofferto per la mancanza della madre. Che era morta nel darla la luce. E Olga... E Olga... Non era mai stata capace di prendere il suo posto nel cuore di Emanuele. Ma era sano? Voglio dire, era un bambino normale? Era introverso, parlava pochissimo. Era aggressivo. Era come se... Volesse punirsi per la morte della madre. Ma io lo amavo. Lei non sa quanto un padre può amare un figlio avuto in tante età. Poi arrivò la sera di quel maledetto trasloco. Noi... Cercavamo un autista... Che fosse disposto a viaggiare di notte, malgrado il coprefuoco. E l'avevamo trovato. Stavamo per partire quando mi dissero che Emanuele era scomparso. Non si trovava più. L'abbiamo cercato dappertutto. Ma era sparito. Non avete avvertito le autorità? C'erano i bombardamenti. Nessuno si sarebbe occupato di un bambino scomparso. Facemmo una denuncia. E il nome di Emanuele fu iscritto nel registro dei dispersi. Noi continuavamo a cercare. Ma ormai erano passate più di due settimane. Poi, una mattina, il nostro giardiniere notò che il coperchio del pozzo era fuori busto. Emanuele era lì. Smagrito, impaurito, sporco. Dio solo sa come c'era finito lì dentro. Ma era vivo. Era vivo. E quella era l'unica cosa importante per me. Però era successo qualcosa in quel pozzo. Qualcosa che l'aveva minato nel profondo. Il dottor Lorenzi lo tenne sotto osservazione per tre mesi. Ma il bambino peggiorava sempre di più. Alla fine ci disse che forse il suo male poteva essere irreversibile. E non si è mai più ripreso? No. Anzi, peggiorava sempre di più. Non riuscivamo nemmeno a farlo mangiare. Era diventato quasi un vegetale. Tanto che alla fine Olga mi disse che bisognava portarlo in un istituto. In un orfanotrofio? No. Doveva essere portato in una clinica in Svizzera. Io ero distrutto dal dolore. E Olga si offrì di pensare a tutto. Mi fece credere di averla affidata alle cure degli specialisti migliori. E lei è riuscito per tutti questi anni a non vederlo? Io amavo la mia seconda moglie. Avrei fatto qualunque cosa pur di non perderla. Pur di non rimanere solo una seconda volta. Un uomo è capace di qualunque nefandezza quando è in pena per se stesso. E io lo ero. Ogni giorno che passavo senza andare a trovare Emanuele, mi disprezzavo sempre di più. E più mi disprezzavo, più mi era difficile reagire. Così alla fine ho permesso a mia moglie di cancellarlo. Di far credere a tutti che era disperso. Olga riuscì a convincermi che era meglio che nessuno sapesse. Basta così, Gerardo. Non dire una parola di più. Questa volta non la passerà liscia. Ne lo assicuro. No, aspetta un attimo. Ti prego, Olga, non fare scenate. La signorina stava per andarsene. Io posso restare se vuole. La prego, vada pure via. Avrà presto mie notizie. Arrivederci. Non ci posso credere. Averlo abbandonato per tutti questi anni. Povero ragazzo. Quella donna pensava di cavarsela anche stavolta. Sì, ma io credo che l'ingegner Villoresi... Villoresi è anziano e malato. E io non credo che avrà la forza e la volontà di contrastare la moglie. Se solo non fosse arrivata così presto. Io non sono riuscito a trattenerla. A un certo momento è scappata come... come se avesse avuto un'intuizione. Comunque Fabrizio ha sofferto anche troppo. Io non aspetterò in eterno una risposta di Villoresi. Cap, è solo un'amica, non ci sta niente tra noi. È fatta apposta per provocarmi, per farmi ingelosire. Senti, sono due anni che aspetto. È vero, ti ho promesso che avrei avuto pazienza. Mamma, non ce la faccio più. Celestì, io voglio stare con te e sono sicuro che tu vuoi stare con me. Non posso, Salvatore, sono già impegnata, te l'ho già detto, non posso. Ma chi è? Chi sarà mai sto Padre Eterno? Nessuno lo conosce, nessuno sa dove sta. E li vuoi più bene che a me. Sì. 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 La peglia dove ha fesso tutto conservatore. Mi la potevo dicere. Sennò mettevano in guai un sacco di gente, come facevo? Ma tu lo sapevi quello che provavo per te. Se tu me l'avessi detto, Chieri, io mi mettevo l'anima in pace. Perché sei stata zitta? Salvatore, aspetta! Aspetta! Aspetta, Salvatore! Celestino, mi cercare più! Dai, Fabrizio, almeno questo di cucchiaio, dai! Mangialo! Non ti va? Eh, vabbè. Non leviamo. A posto. Se continua così, questo muore di fame. Certo, tu pure ce ne faccia. Sono solo stanca. Sei stanca di nasconderti, Celestina? Rosanna! L'ho cercata dappertutto. L'ingegner Villoresi ha telefonato. Sì. Vuole Fabrizio. Vuole che suo figlio torni a casa da lui. Ma veramente? È fantastico! E così tutto andava a posto. L'ingegner Villoresi aveva trovato il coraggio di imporsi alla moglie. E finalmente Fabrizio avrebbe avuto una casa, un padre e un passato. Quel passato che per tanti anni gli era stato sottratto. Avrei dovuto essere felice. E lo ero. Ma fu solo mentre guardavo i bambini e le suore che lo salutavano, che mi resi conto di quanto volevano bene a Fabrizio. Di quanto lo avessero accettato e protetto in tutti gli anni passati all'istituto. e mi chiesi come sarebbe stata la sua nuova vita. A volte le persone che amiamo e di cui abbiamo veramente bisogno sono più vicine di quello che pensiamo. Andrea, che ci fai? Quei ti sei impalato. Non è che te ne mangi tu, vero? Ma figurati. Signor ingegnere. Vai Fabrizio. Emanuele. Io mi chiamo Fabrizio. Ha bisogno solo di un po' di tempo per riprendere confidenza. Un po' di tempo, lei dice. Io credo che ce ne avrà molto di tempo prima che mi perdoni di quello che gli è stato fatto. Io sono il tuo padre, Emanuele. E questa... è la tua famiglia. Quello sei tu a cinque anni. è quella. È tua madre. Mia madre. Fabrizio doveva riempire un vuoto durato sedici anni. E io che l'avevo portato fin lì non potevo fare a meno di chiedermi se ci sarebbe mai riuscito. o se gliel'avrebbero permesso. Ci devono essere stati dei motivi davvero gravi per avermi tenuto nascosto tutto questo per tanti anni, signora Villoresi. Infatti ce ne sono stati. Ma voglio essere sicura che siano superati prima di lasciare Fabrizio in questa casa. Io e mia moglie abbiamo chiarito molte cose. D'ora in avanti non ci saranno più malintesi fra di noi. Sono molto contenta che Emanuele sia finalmente tornato a casa. Io ho sempre cercato di agire in buona fede. E non è stato facile, sa, fare certe scelte. Come quella di chiuderlo in un orfanotrofio. In quella clinica svizzera l'Emanuele era soltanto un numero. I medici ci avevano detto che per lui non c'era più niente da fare. Ho preferito riportarlo in Italia. Volevo che stesse vicino a noi. L'ho fatto ristrutturare io quell'orfanotrofio apposta per lui. Sorella Alberta glielo può confermare. E in tutti questi anni sono andata a trovarlo ogni mese per controllare che stesse nelle migliori condizioni possibili. E visto come sono andate le cose mi sembra di aver fatto una buona scelta. Non è vero, reverenda madre? Oh sì, certo. Fabrizio è diventato un altro. Ma di tutto questo il merito ce l'ha soltanto la signorina Ranzi. Non crede? Beh, comunque adesso la cosa più importante è che lui stia tranquillo e che si senta protetto. Questo potrà verificarlo tutte le volte che vorrà. Io la ringrazio, ma non... Non è un invito. È una richiesta d'aiuto. Io devo conoscere mio figlio e ho bisogno di qualcuno di cui possa fidarmi. L'ingegner Villoresi ha ragione. Penso sia giusto che lei stia vicino a Fabrizio il più possibile. Anzi, visto tutto quello che è successo io sono convinta che... che la cosa migliore per lei sia di non lasciarlo solo neanche un minuto e controllarlo fino a quando non avremo la certezza che... che sia veramente assicuro. E così Fabrizio cominciò la sua nuova vita. Io speravo che il fatto di avermi sempre al suo fianco lo avrebbe abituato ad accettare la presenza di suo padre che sembrava aver ritrovato di colpo la salute e la gioia di vivere. Il sabato andavamo a prendere il gelato a Piazza del Duomo. Fabrizio sembrava felice ma io sentivo che era ancora troppo presto per abbassare la guardia. Olga! Sei venuta allora? Me l'hai chiesto? Già finito il helicopter, eh? Sì, ci stavamo rilassando. Vedo, vedo. Fabrizio! Fabrizio! Dammelo! Peccato. Appena comprato. Ma proprio non ci riesci a mangiare come una persona normale, vero? Olga, ti prego! Lo laveremo! Ti puoi scommettere. Ne avremo di vestiti da lavare con tutto quello che continui a comprare. Olga! Senti, io ti aspetto a casa, eh? Così mi preparo per il bucato. Ma... Olga! Aspetta! Olga! Sorella Alberta aveva ragione. Finché Villoresi era così succube di sua moglie, Fabrizio non sarebbe mai stato al sicuro. Ingegnere, faremo tardi. Sì, chiamalo. Ma... Avevi detto che saresti venuta. Non mi sento niente bene. Ma sono due settimane che ti rifiuti di uscire con noi. Gerardo, ho un forte mal di testa. Io penso che andrò a dormire subito, sai? Ma voi andate, divertitevi. Va bene. Come vuoi. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Vieni. Pronto? Sì, sono io. No, l'ho già scritta e la devo firmare. Poi la mando all'avvocato. No, no, no. La situazione sta diventando veramente insostenibile. Sì. Credo proprio che la mia assenza sarà notata. Signor Villoresi, ma Palazzo Giusti non sta da quella parte? Lo so, ma non ci andiamo più alla festa. Perché? Sua moglie gli ha revocato il permesso? No. Ma se ci andiamo senza di lei, la gente potrebbe pensare male. Ma se non ha il coraggio di farsi vedere con Fabrizio, sarà lui a pensare male di suo padre. Andiamo a fare una passeggiata. Ieri la temati non era proprio in voce e l'opera era di una noia mortale, ma tanto tutti pensavano a qualcos'altro. È un vero e proprio scandalo. Che cosa? Ma farsi vedere in galleria con quel ritardato e quella donna. Sono perplesso quanto lei, cara signora. Secondo me, Laranzi vuole prendere il posto di Olga. Olga Villoresi non è il tipo da farsi scalzare da quella donna. Sì, ma intanto non viene più né a teatro né alle nostre feste. Non si sentiva tanto bene questa sera. Lo credo bene, con Laranzi sempre appiccicata al marito. Non vorrei che si dedicasse al padre dopo aver sedotto il figlio. Sempre ammesso che sia suo figlio. Ma che dici? Gerardo l'ha riconosciuto. Sì, ma lo sappiamo bene quanto ha sofferto per la sua disgrazia. E questo ragazzo qui, che è spuntato dal nulla, se fosse un impostore, avrebbe fatto la sua fortuna. Non posso credere che esista gente così malvagia ad approfittare del dolore di un povero vecchio. Hai sentito Giulio? Mia moglie si meraviglia ancora della cosiddetta del mondo. Vuoi bere qualcosa? Sì, visto che ti ha sposato. Ma poi chiesta Ranzi da dove viene. Faceva l'insegnante di canto ed è stata cacciata via da tutte le scuole d'Italia. Ho sentito dire che quando insegnava al collegio, ha spinto al suicidio una ragazza. Ma santo cielo, perché avrebbe dovuto farlo? In fondo anche i mascalzoni hanno bisogno di un tornaconto. Dai, sono quelle cose che accadono in provincia. e nove su dieci sono storie di sesso. Lei che ne dice, avvocato? Questo non lo so. C'era di mezzo una madre prostituta e una tresca con un ragazzo. Stefania, che è? Non ti senti bene? No, no, sto bene. Solo che ho un meggioro mal di testa. Vado un attimo a rinfrescarmi. Signorina, tutto bene? Signorina! Signorina! Cosa fa qui tutta sola? Aveva bisogno di conforto religioso nella mia cappella privata oppure semplicemente non si divertiva? No, al contrario. È che mi è venuto un leggero mal di testa. Beh, questa è un'ottima occasione per non fumare. Ci sono dei vizi molto più adatti a una ragazza giovane e bella come lei. Oppure lei nervosiva il nostro spettacolare. Cosa vuole? Le feste sono così. Si parla e si sparla di chiunque e di nessuno. Oggi è toccato l'aranzi, domani toccherà qualcun altro. Che cosa c'entra l'aranzi? Io non intendo. C'entra. Non è una sua amica? La conosce, no? Io so solo che non è come la descrivono. Le lasci fare, le lasci dire. Si stancheranno. O magari cominceranno con lei, Stefania, chi lo sa. Ecco il Martini. Scusate. Prego. Stefania si è sentita poco bene, allora l'ho raggiunta, ma adesso che ci sei tu la lascio in buone mani. Il Martini fa male per il mal di testa, come le sigarette. Mi so difendere anche da sola. Comunque grazie. Ma te ne stai andando? Saluta tu la signora, giusti da parte mia. Dille che non mi sentivo bene. È la verità. Va bene. Ci passa le giornate a leggere. Non vuole fare altro. Deve recuperare tutti gli anni persi. Ehi. Proprio non ci riesco a farmi volere bene da lui. È difficile per Fabrizio aprirsi se non si sente protetto. Neanche lei a stima di me, vero? Io sono diverso da Emanuele. Da bambino non amavo la lettura. E a scuola, quando ci facevano leggere i promessi sposi, mi annoiavo. Ma c'è una frase, una soltanto in quel libro, che mi ha rintronato in testa per tutta la vita. Uno, il coraggio non se lo può dare, se non ce l'ha. Però io ci proverei a darmi un po' di coraggio. Anche perché se no lei suo figlio lo perde per la seconda volta. E definitivamente. Io ho già fatto qualche cosa, bene Emanuele. Volevo parlarne anche con lei. È una cosa che la riguarda. Venga a trovarmi domattina. Saremo soli. Va bene. Io non ci voglio andare. Perché vi date via? Non ti diamo via. È il tribunale che ha deciso così. Vedrai che starai bene. Io sto bene qua. Lo volete capire? Avrai una casa, un papà e una mamma che ti vogliono bene. Che si prenderanno cura di te. Questa è casa mia. Io a quelli che mi vogliono nemmeno li conosco. Magari li picchiano pure i bambini. Chi me lo dice a me? Non c'è più niente da fare, vero? Sono fuori che aspettano. Andiamo. No, la porto io. Ciao. Ciao. Ciao, dove ci trovai? Andrea? Ecco qua il nostro ragazzo. Mi raccomando, fai bravo. E vienici a trovare. Grazie, una verenna madre. Verremo a scorsi. Ti aspettiamo presto. Anche il giorno di Andrea era arrivato. Sapevamo che per lui era un bene aver trovato una famiglia. Ma anche se ci aveva fatto disperare con i suoi scherzi e i suoi dispetti, sentivamo che la sua partenza avrebbe lasciato un vuoto in tutti noi. Per Celestina però quel vuoto andava molto oltre l'affetto che provava per tutti i bambini dell'orfanotrofio. Andreea! 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 Aspetta, Andreea! Celestina! Non piangere! Basta, devi andare. Mi zitto un po' da quelli. Poi scampo e ritorno qua. Va bene. Ora devo andare. Vai. Tu sapevi che sarebbe arrivato questo momento. Il distacco fa parte della vita. Lo so, ma Andreea è già grande. E poi non sarà troppo tardi per avere dei genitori. Per dare e ricevere amore non è mai troppo tardi. E questo vale anche per te, Celestina. Tu ami molto la musica, ma forse vorresti farti una famiglia. E ne hai tutto il diritto. Ma io ho preso i voti perpetua, reverenda madre. Se decidiamo di seguire il nostro cuore, il signore non può che esserne felice. Sì, reverenda madre. Ecco, questi sono i bozzetti originali per la progettazione dei navigli di Milano. Li hai fatti tu? No, no, mio padre, mio padre. Io, dopo la laurea, mi sono occupato soltanto della fabbrica di famiglia. E ho fatto bene. Ho fatto bene perché è una delle poche cose della mia vita di cui vado orgoglioso. A parte te, Emanuele. È tardi. Va a letto. Buonanotte. Buonanotte. Gerardo, ma che cos'è questo baccano? Ma cos'è successo? Che cos'è questa lettera? Che cos'è questa lettera? No, no, calmati, Gerardo. Lo sai che ti fa male arrabbiarti e... Non ci riuscirai più! Potrai scrivere tutte le lettere che vuoi per farmi interdire, ma nessuno ti darà retta! Avanti, raccogliela e spediscila. Neanche così riuscirai a togliermi Emanuele per la seconda volta. Ma vedi, io l'ho scritta giusto in un momento di rabbia, poi mi sono pentita. Tant'è vero che non l'ho spedita, no? Fabrizio torna a dormire. No! Emanuele, resta lì! Tanto non abbiamo niente da nascondere! E lui si chiama Emanuele! Io vado a prenderti la medicina. Ma quale medicina? L'unica cosa che mi fa star male è la tua presenza! Ma cosa dici? Tu hai bisogno di me. Tutto quello di cui ho bisogno è che tu sparisca da questa casa. Che tu sparisca dalla mia vita! Ti do tempo fino a domani sera. Raccogli tutte le tue cose. E fattene! Fattene! E' tardi, Emanuele. Andiamo a riposare. Quella donna non potrà più farti del male. Emanuele. Adesso potremmo fare tante cose insieme. Io e te. Io ti voglio bene. Papà. Dormi adesso. Papà! 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 Non mi abbandonare! Non mi abbandonare! No! No! Non può più sentirti. E' troppo tardi. No! 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 Siamo qui riuniti nella casa del Signore per testimoniare con la nostra presenza l'affetto che ognuno di noi nutriva per il caro fratello Gerardo. Ma non è un momento di tristezza questo, perché è il Signore che l'ha voluto accanto a sé. Come dice Giovanni dal libro della popolissima, coloro che hanno lavato le loro vesti, prendendo le candide col sangue dell'agnello, ora stanno dinanzi al trono di Dio. L'agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. E non vi sarà più notte. E non avranno più bisogno di luce, di lampada, di luce, di sole. Ma che fai? Che fai? Fabrizio, vai a questo punto. Perché il Signore Dio li guiderà. Dai, vieni. Tiensi. No! Ma com'è? No! Ma che ti prendi? No! Che succede? No! Ma stai tranquillo, Fabrizio! No! Fabrizio! Bisogna portarlo fuori, per favore. Su, bisogna portarlo fuori. Su, forza. Dai qua. No! Su, dai, che su. Su, che su. Sta qua io. Sto qua io. No! Ma chi lo ha chiamato? Che volete da lui? Non possiamo fare niente in questo momento, altrimenti peggioriamo la situazione. Ve lo portate! Anche l'ambulanza, veravate preparati? Anche l'ambulanza! È una richiesta di perizia psichiatrica, signorina. Eseguiamo un ordine del Tribunale. Il Tribunale perché? Credo che riceverà presto un invito a comparire. Mi spiace. Complimenti, avvocato. Sono in buone mani. Sì. È per questo che costano un po' care. Spero che non abbia dovuto insistere troppo per convincere il dottor Lorenzi. No, gli ho semplicemente detto di tenere due infermieri fuori nell'eventualità. Se la mia intenzione era quella di dare un sereno svolgimento a questo triste rito. Voleva parlarmi, professore? Ah, sì, prego, dottoressa. Si accomodi. Può andare. Mi raccomando, non mi passi nessuna telefonata. Va bene, avvocato. Grazie. Prego. È da un po' che osservo l'impegno che lei mette nel suo lavoro. E devo dirle che fra i miei praticanti lei è indubbiamente la migliore. E non soltanto per la sua voglia di lavorare, ma soprattutto per il suo coraggio. Ed è per questo che le domando se lei vuole farmi da assistente. È un processo molto importante, sa? Sarebbe meraviglioso. Spero solo di essere all'altezza. Ah, sono sicuro che lei non mi deluderà. E di quale causa si tratta? La vedova Villoresi contro Rosanna Ranzi. Capisco il suo disagio, Stefania, ma lei deve superarlo. Lei può essermi molto utile proprio perché conosce bene la controparte. Poi per lei è una bella occasione. Lei potrà dimostrare tutto il suo attaccamento e la sua fedeltà al nostro studio. Mi dispiace, ma io non posso. E perché? Perché Rosanna Ranzi è innocente. Questo a noi non interessa. Vede, un bravo avvocato non deve occuparsi di chi è colpevole e di chi è innocente. Deve soltanto difendere il suo cliente, possibilmente vincere la causa. Questo deve fare un bravo avvocato. Vincere la causa, nient'altro. Non so se sarò mai un bravo avvocato. Andiamo, Stefania, su, non facciamo i bambini. Le regole del gioco sono queste. Noi non possiamo cambiarla. Io avrei evitato molto volentieri questo processo, Stefania, ma se vado in corte d'assise io non posso perdere. E se io vinco sarà un triunfo anche per lei. E lei lo sanno che i triunfi cancellano molte cose. Che cosa vuol dire? Stefania, ognuno di noi ha degli scheletri nell'armadio. Solo i triunfi possono cancellarli, definitivamente. Io lo dico nel suo interesse. Per la sua amica Aranzia ormai è troppo tardi, ma per lei ancora no, Stefania. Io non capisco perché lei si ostini a voler rimanere ancora tra i perdenti. Forse perché lo sono anch'io. Stefania, che hai? Lascio lo studio. Che è successo? Problemi con Giusti? Con me stesso è troppo tempo che quando mi guardo allo specchio mi ne voglio disputarmi. Aspetta, ti rendi conto cosa rinunci? Forse no, ma so cosa ho rinunciato fino ad oggi. Abbassa la voce. Non me ne frega niente il giudizio di questi leccaculo. No, ma sei tutta matta. Cosa c'ho da perdere? Io non c'entro niente con te, con loro, con Giusti. E tu? Cos'è da guardare? Non sono abbastanza elegante per lavorare in questo ufficio con gli affreschi? Eh? Lei mi ha lavato un palimento? Lei mi ha pulito una scala in vita tua? Io ho passato l'infanzia a pulire le scale. Si vede. Stefania, ma cosa stai dicendo? Nicola, io non sono la figlia di una ricca farmacista. mia madre batteva i marciapiedi. Mia madre era una prostituta. Ed ora è lei che pulisce le scale per mantenermi. Stefania, cosa dici? Eh? Chiedila al tuo capo, non so come me l'ha scoperto. Lasciami passare. Lasciami passare. Lasciala passare, Nicola. Su. Prego. Credo che faresti meglio a non vedere più quella ragazza, sai? È già come se un grosso errore cercherai di portarla qui. Cerchiamo di non commetterne altri, va bene? Credevo fosse d'accordo anche lei, professore. Stami bene a sentire, stronzetto. Tu lo sai che sei qui soltanto perché sono amico di tuo padre, no? Diretta a me, cancellala la tua vita questa ragazza. Se non vuoi porre fine alla tua brinante carriera ancora prima di cominciarla. Mi sono spiegato? Va bene. Lavo. Adesso. Vai. Vai. Basta. Domani vado a parlare con un mio amico dell'università. Lavora con un avvocato molto bravo. E quanto costa un avvocato così? Non importa, qualcosa ci inventeremo. Ma perché non chiamiamo un avvocato d'ufficio? Scherzi, giusti se lo mangiano un boccone. Io ti tiro fuori di qui, Rosanna. Non so. Lei deve uscire. Ranzi, c'è il tuo avvocato. La signorina Ranzi ha già detto al giudice struttura che non vuole avvocati d'ufficio. Non è un avvocato d'ufficio. Esca. Non si preoccupi. Se mi fa l'assistente può restare anche, Ranzi. Rosanna Ranzi, nata a Roma il 4 aprile 1929, residente in Milano in via Bodoni 48, è imputata di plagio, reato previsto dall'articolo 603 del codice penale per avere sottoposto al proprio potere, in modo da ridurlo in stato di totale soggezione, il minore è divenuto poi maggiorenne Emanuele Villoresi, detto Fabrizio. Del delitto degli articoli 571 e 572 perché abusava dei mezzi di correzione, sottoponeva continui maltrattamenti, il soppercitato minore del delitto di quell'articolo 643 perché al fine di procurarsi un profitto abusava dello stato di infermità del defunto Gerardo Villoresi riguarda l'ingente patrimonio del decuyos. Signora Villoresi, lei ha dichiarato di essere al corrente del trattamento che l'imputata riservava al suo figliastre Emanuele, detto Fabrizio. Perché non ha mai protestato? Perché sorella Alberta ci aveva detto che tutto questo veniva fatto per il bene di Emanuele e non poteva certo immaginare che quella donna stesse imbrugliando anche lei. Perché non le chiede per quale motivo ha chiuso un bambino lì dentro per 16 anni? Calma, ci arriverà. Sarebbe partire da quella domanda a non arrivarci. Signorina, perché non gli dice anche a noi i suoi dubbi? Che procedura assurda abbiamo in questo paese? In che senso, scusi? Perché non possiamo essere noi a fare le domande? Signorina, che cosa vuole che ci mettiamo a riscrivere la procedura penale qui adesso? Un giorno qualcuno lo farà, signor Presidente. Certo, certo. Ma fino a quel giorno noi useremo quella che abbiamo, eh? Adesso andiamo avanti. Signora Viloresi, suo marito sapeva che Emanuele si trovava in un orfanotrofio? Ma è naturale. I medici ci avevano detto che l'Emanuele era irrecuperabile. E io sapevo che nell'orfanotrofio di sorella Alberta perlomeno sarebbe stato trattato con amore. È falso. Sorella Alberta in quell'orfanotrofio ci arrivò solo tre anni fa, prima del suo arrivo. Quel posto era una stalla. L'imputata è tenuta a fare silenzio. Chiedo scusa a nome dell'imputata, Presidente. Ma Emanuele Viloresi fu rinchiuso in quell'orfanotrofio 13 anni prima dell'arrivo di sorella Alberta. Sono io che ho tenuto in piedi quell'orfanotrofio, investendo tutto il mio denaro. Sono io che ho chiesto alla curia di affidarne la direzione ad una madre superiore a più capace, visto che la precedente era ormai troppo anziana. Era poco, lo so. Ma senza quel poco nessuno di quei bambini avrebbe avuto una casa. Perché avete ricoverato Emanuele sotto falso nome? Perché mio marito era un uomo molto in vista e voleva evitare che qualcuno potesse usare suo figlio per estorcergli del denaro. Come di fatti è successo. È falso. Faccia silenzio! Signora Viloresi, come faceva ad essere così sicura che la Ranzi volesse impadronirsi del suo denaro? Perché si è introdotto in casa mia con l'inganno. Ha minato la salute di mio marito e poi alla fine lo ha spinto a cambiare testamento usando l'Emanuele come ostaggio. Non è vero! Sì, invece! Te me l'hai ucciso, mio marito! Me l'hai fatto morire di crepacuore! Perché ci avevi fretta! Fretta di incassare! Non è vero! Signor Presidente, ma questo non è un confronto. E' avvocato. Faccia stare zitta alla sua cliente. Rosanna, calmati! Non è vero! Signora Viloresi, lei ha qualcos'altro da dire? Sì, io... non è per me. Non è per difendere il mio patrimonio che io sono qui, ma per impedire che quella donna faccia a qualcun altro tutto il male che ha fatto a me. Si può accomodare. L'udienza è aggiornata. Durante la guerra ne avevo visti parecchi di bambini sotto shock tirati fuori da sotto le macerie dopo dei bombardamenti, ma nel caso di Fabrizio purtroppo mi accorsi subito che non c'erano speranze. Il trauma della prigionia si era innestato su una patologia precedente. Che intende dire con patologia precedente? Che Fabrizio era già un bambino ritardato prima di chiudersi in quel pozzo. Signor Presidente, vorrei sapere dal test come valuta i progressi che il ragazzo avrebbe fatto con l'ausilio della signorina Ranzi. Io non ho visto alcun progresso. Anzi, tutte le volte che ho avuto occasione di visitare Fabrizio in quegli anni, ho visto solo peggioramenti. Contesto la testimonianza, signor Presidente. C'era anche il dottor Lorenzi in orfanotrofia quando Fabrizio ha parlato. Signor Presidente, mi scusi, ma non sembra il caso di porre un freno a queste continue, esteriche interruzioni alla sua interrogatoria. Presidente, la mattina del 24 dicembre del 1960 il professor Lorenzi era presente all'orfanotrofio e anche lui ha sentito parlare Emanuele. Circostanza del resto confermata anche in istruttoria. Ha sentito, professore? Cosa risponde? Mi ricordo di quella vigilia di Natale, ma dire che Fabrizio abbia parlato è un'esagerazione. Io ho sentito solo dei mugugni. Ma se si rifiutava di seguirvi, l'avete sentito tutti. Presidente, gli unici che hanno confermato la circostanza sono i testimoni vicini alla signorina Lanzi. Ah sì? E le dame di carità? Signorina, lei deve stare zitta, se no la faccio uscire dall'aula. Le dame di carità hanno negato tutto Rosanna. Gli ha detto che non c'era chi non ha sentito. Professor Lorenzi, cosa è successo quel giorno? Il ragazzo si era nascosto in una vogliera. L'imputata ha forzato la porta e lo ha trascinato fuori di peso. Fabrizio era in condizioni pietose, aveva le vesti strappate. L'Aranzi lo minacciava. Sì, ma si ricorda che cosa gli diceva esattamente? Gli diceva che se non avesse parlato lo avrebbero sbattuto in manicomio. Però, in base alle testimonianze raccolte in istruttoria, il ragazzo aveva incominciato a mangiare, a vestirsi da solo. L'Aranzi era riuscito ad ammaestrarlo con la minaccia di punizione. Come si fa con un cane? Il ragazzo imitava meccanicamente dei movimenti, ma non ha mai acquisito una reale consapevolezza di sé. È falso! Ti è zitta! Ma come faccio a stare zitta di fronte a tutte queste bugine? E allora se ne vada fuori! Aspetta, era lì. Meglio fuori. Meglio fuori. Ti voglio bene. Ti ho sempre voluto bene. E non ti abbandono. Io non ti abbandono. Adesso dovrebbe uscire, reverenda madre. È dimagrito. Perché è così dimagrito? Rifiuta il cibo. Lo metteremo sotto flebo. Prego. Dottor Ridolfi, a quale conclusione è giunto con la sua consulenza? Io ritengo che la signorina Ranzi, grazie alla sua sensibilità, abbia intuito che il ritardo mentale di Fabrizio dipendeva da un evento esterno traumatico e quindi non era irreversibile. Insomma, lei ci sta dicendo che la signorina Rosanna Ranzi, diciamo sconfinando, nell'esercizio abusivo della professione medica, ci ha visto più lontano di un luminare, di uno scienziato come il professor Lorenzi? In un certo senso sì. A volte è la nostra stessa preparazione che ci ingabbia in schemi mentali troppo rigidi e i progressi che la signorina Ranzi ha ottenuto con Fabrizio lo dimostrano. Ma quali progressi? Lei ha visto in che condizioni è il ragazzo? Avvocato Giusti. No, abbia pazienza, signor Presidente, ma io ho l'impressione che questo signore stia parlando per sentito dire. Io vorrei sapere dal dottore, quando ha visitato il giovane Villoresi la prima volta, parlava? Ma era sotto shock. Parlava o no? No. E allora lei come ha fatto ad accorgersi di questi fantomatici progressi? Beh, non sono stato un testimone personale, ma ho parlato coi bambini. Ha parlato coi bambini? I bambini dell'orfanotrofio e anche le suore mi hanno raccontato dei suoi miglioramenti. Ah, beh, glielo hanno raccontato? Sì. All'inizio dell'istruttoria il ragazzo regiva ancora gli stimoli a cui veniva sottoposto. In questi ultimi mesi è molto peggiorato. Quando lo ha visitato l'ultima volta? In realtà non l'ho più visitato. E perché? Nel reparto ospedaliero dove è stato ricoverato mi venivano fatte grosse difficoltà. E quindi anche i peggioramenti gliele hanno raccontati. Gli chieda come mai il professor Lorenzi gli ha impedito di visitarlo, presidente. Signorina, questo non è conferente, abbia pazienza. Qui vogliamo solo avere un parere tecnico sul grado di sviluppo evolutivo del ragazzo, signor presidente. Sì, sì, lei ha ragione, avvocato Giusti, ma io sono curioso. Perché Lorenzi le ha impedito di visitarlo? Io una volta lavoravo nello studio psichiatrico del professor Lorenzi. E adesso? È stato licenziato? No, ma sono stato messo in condizione di dovermene andare. Insomma, lei ci sta dicendo che Lorenzi non le ha consentito di visitare Emanuele Villoresi per motivi personali. Signor presidente, quali motivi personali possono intercorrere fra un luminare e un giovane ragazzo balbettante che inizia? Il professor Lorenzi ha solo preso le misure del caso, come la procedura imponeva. Signor presidente, Emanuele Villoresi parlava fluentemente prima di essere l'istupidito dagli elettroshock e dal Valium, come la procedura imponeva. Signor presidente, la signorina non ha alcun titolo per continuare a interloquire in questa sede. Giusto, signor presidente, qui si permette a chiunque di parlare. Qui si fanno insinuazioni, si fanno diffamazioni, si fanno dei referti medici sulle testimonianze di bambini. Se il giovane Villoresi è in grado di parlare, sentiamo lo santo Dio, sentiamo dalla sua viva voce tutto il bene che la signorina Aranzi gli avrebbe fatto. Noi siamo d'accordo. Si faccia venire a testimoniare Fabrizio. Avvocato, lei è d'accordo con la sua assistente? Sì, presidente. E lei, signor pubblico ministero? Parere favorevole. Bene, l'udienza è aggiornata. Brava, ti ha teso una trappola e tu ci sei cascata. Adesso giusti se lo sbrana vivo Fabrizio. Magari Fabrizio ha bisogno di una scossa per reagire. Gli ne danno tre alla settimana di scossa in ospedale, a 90 volte, e non reagisce. Perché da solo? Ma qui c'è Rosanna, io sono sicuro che gli basterà vederla a Fabrizio per tornare come prima. Speriamo, dobbiamo stabilire una linea di condotta con lei, dobbiamo parlarci molto bene domani mattina. Scusa, non andiamo a parlarci adesso? Non posso, ho una cena. Tu così pensi di vincere questo processo? Tra una partita a tennis e una cena con i tuoi? Non è con i miei, con un amico che mi ospita. I miei mi hanno cacciato di casa. Se vinciamo ti rivolranno. Se per questo anche i giusti ci rivolranno a studio se vinciamo. E tu ci torneresti? No. Mi raccomando, sei già stato espulso una volta. Ricordati che non puoi rivolgerti a lui. Anzi, evita di chiamarlo, altrimenti rischiamo di fare peggio. Però guardalo, fagli capire che ci sei. Spero di riuscirci. Se solo potessi parlarci un attimo, tranquillizzarlo. Scordatelo, non ci daranno mai il permesso. L'udienza è aperta. Introducete il test Emanuele Villoresi. Non riuscivo a crederci. Erano bastate poche settimane per riportarlo indietro di anni. Fabrizio stava addirittura peggio di quando l'avevo visto la prima volta. Non sapevo cosa gli avessero fatto, ma era talmente regredito che non sembrava più solo un ritardato. ma uno spastico grave. Ma portatelo a casa, poveretto! Signor Presidente, è il caso di andare avanti con questo spettacolo penoso? Rimandiamolo in ospedale a questo sventurato, no? No, 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 Presidente, provi a fargli qualche domanda. Mi chieda di Rosanna. Ehi, Fabrizio. Fabrizio, c'è Rosanna, guardala. Signor Presidente, questa è una corte d'assise oppure la pista di un circo, eh? quello che sta venendo oggi in quest'aula. È un'offesa, la dignità umana! No, 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 silenzio, silenzio! Silenzio! Va bene, riportate questo poveretto in ospedale e proseguiamo col prossimo testo. Sorella, si ricorda quando l'imputata cominciò ad occuparsi di Fabrizio? Sì, quasi subito. Rosanna è una che non se ne tiene le cose. E Fabrizio voleva stare sempre al buio e allora lei si è arrabbiata. Diceva che era viziato, che non bisognava dargliele tutte vinte. E poi l'ha cercata lui e gli ha fatto la rana. Gli ha fatto la rana? Sì, e sa lo strumentino, quello che fa cra, cra? Silenzio! Signor Presidente, purtroppo fare i finti tonti è sempre utile quando si ha qualcosa da nascondere. Quando si vive nella menzogna. Che cosa intende dire, avvocato? Ti lo chiedo a lei, signor Presidente. Le chieda cosa fa il mercoledì e il giovedì pomeriggio di tutte le settimane. Allora glielo dico io. La sorella si toglie la tonaca, si mette un bel tagliere scollato e va a frequentare le lezioni di composizione al Conservatorio di Milano. Non è così? Guardi che ci sono parecchi testimoni disposti a confermarlo, sa? Silenzio! Fate qualcosa. Sorella, allora, risponda. Io ho lasciato il Conservatorio, non studio più musica. E per quanto tempo ha studiato con questa seconda identità? Tre anni. Silenzio! Signor Presidente, purtroppo non mi pare che questa testa sia attendibile. Cosa ci si può aspettare da una suora che per soddisfare le proprie ambizioni personali ha tradito i voti perpetui e si è tolta e rimessa il velo ogni volta che le faceva comodo? Era l'unico modo. Io come suora non potevo essere ammessa al Conservatorio. Sì, ma soprattutto non avrebbe potuto fornicare senza farsi notare cosa vuole, signor Presidente. Il Conservatorio è un ambiente artistico, promiscuo. Talmente promiscuo che addirittura lei ha trovato il modo di instaurare un'astruggente relazione amorosa con un suo insegnante. Non è vero. Fate qualcosa, quelli se la stanno mangiando. Non possiamo fare niente. L'imputata deve fare silenzio. Le ricordo, sorella, che lei ha giurato davanti a Dio. Vuole forse negare di aver baciato pubblicamente il suo insegnante Salvatore De Maria. Vuole negare anche di aver spinto lo stesso De Maria a correggere i suoi temi di esame pur di essere promossa. Ha corso un bel rischio questo suo spasimante, l'avrebbero potuto espellere se fosse stato colto sul fatto. Eh, ma si sa, per amore si fa questo e dà le... Si è stato tu, si è stato tu. Non, non, non ce l'ho fatto, non ce l'ho fatto, non ce l'ho fatto. Era l'unico cosa, aveva fatto la spinta. Non sono costretto, non mi fa male. Sì, si sta facendo il male. Silenzio! Ecco, signor Presidente, questo è il tipo di insegnamento che Rosanna Ranzi ha impartito alle sue allieve. Basta guardare il suo curriculum di insegnante, è tutta una storia di instigazioni a mentire, a trasgredire, a travestirsi pur di appagare le proprie ambizioni e i propri piaceri. Signor Presidente, questo intervento non è conferente al processo. Avvocato, queste domande servono per verificare l'attendibilità della testa. Sorella, risponde al vero che lei ha baciato pubblicamente un insegnante nei corridoi del conservatorio? Io sono entrata in convento a 14 anni, io non sapevo nulla del mondo. Beh, a quanto pare ha recuperato in fretta, eh. Sorella, lo ha baciato o no quel ragazzo? Eh sì che l'ha baciato, e chissà che altro gli affari. Silenzio! Ma cosa vi credete, eh? Anche una suora è fatta di carne e da desideri come tutti quanti voi. Seduta. È da dalla rinuncia di quei desideri che nasce la certezza della vocazione, la preghiera e l'amore verso il prossimo. Quindi lei ci conferma che ama quel ragazzo? Risponda, sorella. Sì, ma sono sposata la signora, e non lo tradirò mai. Oh, bene, ma lei è sicura che il signore gradisca questa relazione a tre? Silenzio laggiù. Silenzio! La seduta è aggiornata. Mi dispiace, Celestina. Io devo ringraziarti invece. A me? E perché? Perché grazia ti ho rafforzato la mia fede. non ci credo, Celestina. Tu menti a te stessa. Devo andare, Salvatore. l'udienza aperta. viene chiamata a testimoniare Maria Enrichetta bisogno di una maestra di canto di canto per i nostri bambini di canto per i nostri bambini. E' vero che l'imputata ha aggredito fisicamente il ragazzo? Sì, è vero, ma per il suo bene. E quante volte? Molte volte. Silenzio laggiù. Quindi lei ci sta dicendo che l'imputata ha picchiato molte volte Emanuele Villoresi. È d'accordo nel dire che il ragazzo è succube di Rosana Lazzi? Mi oppongo, Presidente, la parte civile chiedo un'opinione e non un fatto. Rifaccio la domanda, signor Presidente. Reverendo a madre, ha mai visto l'imputata mettere le mani addosso al ragazzo? Sì. Ed è vero o no che il ragazzo era ed è tuttora innamorato di Rosana Lazzi? Silenzio laggiù. È possibile. Ma non è dito che lei lo ricambiasse? Bene. Ed è vero o no che l'imputata già sapeva che il ragazzo era il figlio disperso dell'ingegner Villoresi quando glielo portò a palazzo. Questo non lo so. Come non lo so? Io non lo sapevo. Questo lei lo sa benissimo. Silenzio. Signor Presidente, mi scusi, ma la risposta è in contrasto con quanto ha fermato dalla testa in istruttoria. Sì, sì, lo vedo. Reverendo a madre, ci sono dei nuovi elementi che l'hanno portata a cambiare idea? Al mio ufficio risulta che voi abbiate fatto una visita negli archivi della questura di Milano per consultare i registri degli scomparsi. Sì, si pensava che per il bene di Fabrizio era necessario saperne di più sul suo passato. Lei in istruttoria ha parlato anche di una pagina strappata da uno dei registri. Ce ne vuole parlare? Io non so se ho fatto bene, ma l'ho portata. Come è possibile? permette di avere una mano? Ma l'ho portata? Cos'è questa storia? Io non lo so. Chiedo che venga confrontato con il registro acquisito agli atti, signor Presidente. Accordato. Portate il reperto. Mi pare che corrispondano perfettamente. E perché me ne parla solo ora? Perché l'ho trovata ieri sera, mettendo in ordine gli effetti personali che la signorina Ranzi aveva lasciato nell'orfanotrofio. L'ho portata pensando fosse importante. Mi sembra che non ci siano dubbi, signor Presidente. No? Signor Presidente, chiedo che la pagina venga acquisita agli atti. Venga acquisita agli atti. Io non ho strappato quella pagina. Silenzio. Ma è un'assurdità, Presidente. Non si è sempre detto che la mia cliente voleva dimostrare che Fabrizio era Emanuele Villoresi. E allora che cosa ci guadagnava a sottrare l'unico documento che poteva attestarlo? Beh, evidentemente non era ancora giunto il momento. Evidentemente il suo piano non era ancora pronto. Ma quale piano? Io non ho fatto niente. Se veramente la mia cliente avesse voluto estorcere del denaro alla famiglia Villoresi, quell'atto pubblico era l'unico documento in suo possesso. Ma forse non voleva solo estorcere del denaro. Forse voleva appropriarsi di tutto il patrimonio. E quindi voleva che nessuno sapesse chi fosse in realtà Fabrizio. Voleva lavorarselo da solo, senza altri testimoni, in santa pace. E senza che nessuno sospettasse della sua malafede. Ecco perché ha nascosto quella pagina, signor Presidente. Io non ho nascosto niente. Questa è una trappola. È stata sempre una trappola, fin dall'inizio. Ma è possibile che non lo capite? Portatela fuori. Questa è una corte d'assise, non un mercato. Signor Presidente, visto l'evidente contrasto tra le dichiarazioni della testimone e quelle dell'imputata, io chiedo che si proceda ad un immediato confronto. Fermi! Avvocato? Mi associo. E lei, Avvocato Giusti? Come potrei essere contrario, signor Presidente? Beh, se siamo tutti d'accordo e se la signorina Ranzi promette di calmarsi, si dia luogo al confronto. Riportatela qui. Nell'archivio quel giorno c'eravamo solo io e la signorina Ranzi. I registri erano molti, così pensammo di dividerci i compiti per fare più rapidamente. Distrattamente presi un registro che la signorina aveva appena consultato e sfogliandolo mi accorsi dello strappo. Non è vero. Io quel registro non l'ho mai aperto. Anzi, mi insospetti molto di quello strappo. Reverenda madre, ha mai avuto altre volte da quando conosce la signorina Ranzi delle posizioni così diverse con lei su qualcosa che avete vissuto insieme? Io ho sempre stimato la signorina Ranzi come una persona leale, nonostante qualche trascorso burrascoso. Cosa intende per trascorso burrascoso? Beh, io non so se qui... non vorrà dirci che anche lei è stata picchiata dalla signorina Ranzi. Sì. Troppe poche gliene ho date, signor Giuse. Seduta! Sedeghi, hai strappato quella pagina e sedeghi, mi hai convinto a portare Fabrizio a casa Villoresi. Tu sapevi bene chi fosse lui. io invece non sapevo niente. Tu hai premeditato tutto fin dall'inizio, Alberta. Io non so di che cosa stia parlando. Io l'ho sola aiutata in un momento di difficoltà. Ti sei voluta vendicare d'accordo con la signora Villoresi, Alberta. Per tre anni hai premeditato tutto. Ogni tuo gesto, ogni tua gentilezza. Dall'offerta di lavoro in poi tutto era finalizzato a questo. e quando ti ho chiesto di occuparmi di Fabrizio, hai vinto di opporti. Sapevi che questo mi avrebbe spinto ancora di più ad andare avanti e infatti ci sono ricascata. Ero stata così felice di averle potuto dare un'altra possibilità. In tutti questi anni io l'ho sempre difeso ogni volta che ho potuto. Dio mio. Anche quando ero contraria al suo modo d'agire e di pensare perché la pensavo la sapevo una persona leale. Ma ieri sera quando ho scoperto quella pagina mi si è gelato il cuore e ho capito che non potevo più difenderla. Povero Fabrizio. Adesso ho capito perché non ti voleva guarda in faccia perché non ti ha mai voluto accarezzare. Quel ragazzo aveva capito sin dall'inizio che eri e tu ti stai vindicando anche di lui. Ti stai prendendo gioco anche della sua vita, Alberta. che tu sia maledetta che tu sia maledetta signorina Ransi che tu sia maledetta che tu sia maledetta che tu sia maledetta portatelo fuori maledetta maledetta e anche voi maledetti avete sentito? portatelo fuori dall'aula lo sono basta basta silenzio come avete sentito dalle sue stesse parole l'imputata aveva già aggredito in passato la qui presente sorella Alberta è successo tre anni fa nel collegio femminile di Campo Tures e in quell'occasione si trattò di un vero e proprio tentativo di omicidio sventato solo dall'intervento di alcune persone e il fatto che sorella Alberta non solo non abbia mai denunciato l'imputata per quell'aggressione ma addirittura l'abbia chiamata a lavorare con lei dimostra la sua totale buona fede nei confronti di quella donna signor presidente canina se bella questa che Fabio quando te l'ha fatta dimmi ma che sei scemo così un passo dammela mano stai su su oh povera Tosa cosa che ti ho fatto niente è caduta bisogna medicarla siete voi che mi avete spinto giù per le scale lasciatemi ferma questa buona ferma lasciatemi ferma lasciatemi ferma No, no, no. Ma quanto valio me le hanno dato? Eh, tanto, ma adesso gli apporto all'ospedale, povera Tosa. È tutta colpa mia. Mi sono lasciata usare come una stupida. Aveva tanto insistito perché convincessi Rosanna. Ma non è colpa tua. Soro l'Alberta ha seminato buone azioni dappertutto per farci credere che era cambiata. Ti faceva fare il conservatorio, ho trovato lavoro a mia madre, pagava i miei studi. Ti ero cascata anch'io alla fine. Quella donna è un diavolo. No, non è il diavolo. È una pazza. Solo una pazza può aver macchinato per anni una vendetta così. Forse l'unica cosa che possiamo fare è trovare nuovi testimoni che dicano chi è veramente sorella Alberta. Già. Qualcuno che la conosca profondamente e che sia disposto a dirlo. Io l'ho sempre detto che era perfida, ma pariva a montare tutto sto trappolone. Deve aver rossicato tanto. Il problema è che in questo momento tiene in pugno pure la materina del ragazzo. È chiaro che non è stata leale neanche con Olga Villoresi se avevano fatto un patto. Chi? Stavamo parlando di sorella Alberta, la madre superiore. No, 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 no! Come hai detto che si chiama la madrigna di quel ragazzo? Olga Villoresi. Perché? Le dice qualcosa questo nome? Olga Villoresi. Olga Villoresi. Mi pare proprio di sì, mi pare. Sorella Dele, vuol dirci in quale circostanza le ha conosciuto la signora Olga Villoresi? È stata al collegio di Campo Tures dal 35 al 40. Me lo ricordo bene perché appena è andata via è scoppiata la guerra. Bene, allora lei ricorda che la signora Olga Villoresi studiava a Tures quando sorella Alberta era già madre superiore. Olga? Era la lieva preferita di sorella Alberta. Praticamente erano pappa e ciccia. All'epoca era una moritta colitrice. Mo si dinge. Ma io mica ma la so scordata, eh. E come mai ne ha un ricordo così colorato, sorella Dele? Perché Olga era la spia d'Alberta e gli raccontava tutto quello che succedeva nel collegio. Lei non può mancarmi di rispetto in questo modo, non se lo può permettere. Ah no, eh? E tutto quello che vi siete permesse voi? So se m'ho scordato? Signor Presidente, il fatto che la mia cliente e sorella Alberta abbiano mantenuto un così buon rapporto nel corso di vent'anni dimostra la bontà degli insegnamenti della reverenda madre. Io penso invece che sulle parole di sorella Dele pesino, come dire, antichi risentimenti. Sorella Dele, è vero o no che durante la vostra permanenza a Tures avete avuto continue discussioni con sorella Alberta? Certo! Ero l'unica che gli diceva le cose in faccia! Ed è vero o no che sorella Alberta è stata costretta ad allontanarla pur di non dover più subire le sue continue intemperanze? Ma che all'allontanarla? So io che me ne so' nata, non ne potevo più di quella pazza! Sorella, io non le permetto questo tipo di linguaggio in aula. Ma Presidente, quando c'è vo' c'è vo'. Signor Presidente, come vede, i rancori esistono. E io credo che la testimonianza di sorella Dele non potrebbe essere che di parte. Pure. Ragazzi, vieni un po' qua, dammi la mano, va. Sorella? Sorella, dove va? Anvedione, c'è manco l'imputata qua, ma che processo è questo? E questo cos'è? È una perizia medica. La difesa chiede una breve sospensione del processo per legittimo impedimento dell'imputata a comparire. Esprimo parere favorevole al rinvio. La richiesta è respinta. Presidente, lo stesso medico del carcere è disposto a ricovere in ospedale della mia cliente dopo che è stata picchiata. Avvocato, qui non si parla di assoluto impedimento. Io le posso concedere tre giorni di sospensione. Se nel frattempo l'imputata non si sarà ripresa, andremo avanti senza di lei. Noi non possiamo continuare a pagare per le sue intemperanze. L'Ughienze è aggiornata. L'Ughienze è aggiornata. Buon anno. Buon anno. Buon anno. Sì. Perché non mi hai avvertito? Chi è che ha deciso di trasferirlo in questo reparto? Io. Perché? Io ragazzo stamane. Era troppo riscoso tenerlo in psichiatria. Non si alza più dal letto, non mangia. E allora? E allora se continua così lo perdiamo! Non credo che la responsabilità ricadrebbe su di te. Un essere umano. Io ho anche un'etica professionale. È un po' troppo tardi per avere questo tipo di scrupoli. Non ti pare? Sei in ritardo di 18 anni. Olga. Non facciamo cazzate, Maurizio. Abbiamo troppo da perdere. Tutte e due. E lui cosa ha risposto? Niente. Ma sta crollando. E se si mette in testa di parlare? No. No, non ha abbastanza coraggio per buttare al vento tutto quello che ha. Il dottor Lorenzi è solo un po' agitato. Forse per lei è più facile non agitarsi. Stia tranquilla. La signorina Ranzi pagherà per tutte le malefatte che ha commesso. Già, il problema è che anch'io sto pagando per quello che la Ranzi ha fatto a lei. Come si permette di parlarmi così? Mi scusi, reverenda madre. Abbiamo sempre agito di comune accordo, mi pare. La signorina Ranzi è un pericolo per qualsiasi comunità. La sua, la sua capacità di farsi amare le dà un potere talmente malefico che sono stata costretta a sporcarmi le mani pur di fermarla. Ma ci riuscirà a fermarla? No, certo. È il signore che lo vuole. Noi siamo solo degli strumenti della sua volontà. Dove posso trovare Rosanna Ranzi? La camera in fondo a destra. Grazie. Buongiorno. Mi dispiace, sorella. Ho l'obbligo di non far passare nessuno. Non potete negarle anche il conforto religioso. La prego. Va bene, la faccia presto. Grazie. Rosanna. 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 Mi dispiace. Mi dispiace tanto. È tutta colpa mia. Sono io che ti ho trascinato in questa storia. Lei si è voluta vendicare e ci è riuscita. Io sono sempre stato ingenua, tu lo sai. Ma come hai fatto a non accoglierti di nulla? Meno male che siamo due ingenue. Senza la nostra ingenuità Fabrizio starebbe dentro un manicomio. Rosanna, ma come hai fatto? Da quando mi li danno per bocca li sputo. Quando loro non mi vedono. Siediti. Fai finta di niente. Io ci ho pensato parecchio da quando sto chiusa qui dentro. E sai che ti dico? Che è meglio credere nel bene e prendere ogni tanto qualche schiaffo che vivere guardandosi sempre alle spalle. Ma non pensi che quello che ti sta succedendo è veramente troppo? Non ci si può pentire dell'amore, Celestina. Quando si ama le cose cambiano, in modo imprevedibile. Ma si può smettere di amare per questo? Tu ne sai qualcosa. Per me è troppo tardi, lo sanno. Dobbiamo pensare a Fabrizio. Tu si stai lasciando morire di fame. No. Non è troppo tardi. Né per te, né per Fabrizio. Tirammi su. Che? Aiutami ad alzarmi. Bravo. E adesso portami verso il lavandino. Che? Vai verso il lavandino. E se si volta fai un sorriso. Bravo. Ecco. Celestina. Ma che fai? Perché mi guardi così? Ma Celestina, se non te lo togli del velo dove volevo io. Che fai? Non è possibile. Sta zitta che ci abbiamo solo qualche minuto. Pieni. Grazie. No. Fabrizio. Fabrizio. L'Anna. L'Anna. Sì, sono io. Perché tu hai abbandonato per diventare sola. Io non t'ho abbandonato. Io non ho nemmeno... Chi ti ha detto che t'ho abbandonato? Sono l'alba rovetta. Non ho detto che mi odiati. Non è vero, Fabrizio. Che era tutta colpa mia. Non è vero. Non è vero. Basta. Basta con gli abbracci. Basta con gli abbracci. Fabrizio, basta! Basta. Allora mi odi? Allora tu mi odi! Basta con gli abbracci. Ma no, non è vero. Fabrizio. È che sei anche così. Stato vero quello che ti ha detto, sorella verità. Tu non dovevi arrendersi. A me non ho paura. Tutti abbiamo paura. Soprattutto quando non c'è più una mamma che ci tiene per mano. Il mondo fa paura. È grande. Ed è pieno di pericoli. Però è anche pieno di gioie e di sorprese. E tu questo non lo potrai mai scoprire se non impari a volare da solo. Regione... Alberta... Tu mi lasci... Noi fatti sopravvenuti chiedo la contestazione per le seguenti circostanze costituenti ipotesi di reato. Articolo 610, violenza privata e 385, evasione. Laranzi, infatti, travestita da suora, eludendo la sorveglianza, si è incontrata con la presunta vittima del plagio, Emanuele Villoresi, provocando e facilitando la di lui fuga dal reparto alienati mentali dove era degente. Dica pure chi ha permesso tutto questo. Signor Presidente, quella specie di suora che ancora osa indossare quell'abito che ha insozzato. Questo episodio, signor Presidente, dice molto sul legame morboso che esiste fra l'imputata e quel povero minorato psichico, che adesso vaga per la città da solo. E che per colpa sua è in pericolo di vita, perché non è in grado di intendere e di volere, perché non è in grado di comunicare. La mia cliente voleva solo fare un ultimo tentativo per aiutarlo a liberarsi dal torpore che i sedativi e gli elettroshock gli avevano procurato. Forse il ragazzo è più autonomo di quanto tutti noi crediamo. Avvocato, abbiamo visto tutti l'autonomia di quel poveretto. Fabrizio. Che cosa ci fa lui? Fermatelo! Fermatelo! Portatelo fuori! Ma fatelo parlare! Perché lo portate via? Vogliamo sentire cosa ha da dire! Signor Presidente, chiedo a questa corte che venga riascoltato Emanuele Villoresi. Signor Presidente, abbiamo già assistito ad una scena pietosa. Non mi sembra il caso di torturare ancora quel poveretto, no? Accompagnatelo qui. Fabrizio, come stai? Bene. E ci vuoi dire qualcosa? Sì, io volevo dire grazie. Grazie a chi? A te, Rosanna. Tu mi hai insegnato tante cose. Se non c'eri tu, io morivo di gelo come l'usignolo. Fabrizio, vieni qua. Vieni, siediti. Cosa ha detto? Ma non lo so, parla di usignoli. Te la ricordi? Non ho mai visto un animale selvatico in pena per se stesso. Un usignolo cadrà morto di gelo giù da un ramo senza aver mai provato pena per se stesso. Io ho provato molta pena per me stesso e anche altre persone hanno provato pena per me, per quello che ero. Tu sei l'unica che non ha mai provato pena per me, Rosanna. Sei l'unica che non mi ha mai compatito. Grazie. Signor Presidente, se questo ragazzo è il risultato di un plagio, allora io credo che il plagio debba essere cancellato dal codice penale. Se Rosanna Aranzi meritano la punizione, che cosa meritano coloro che l'hanno tenuto segregato per anni, questo ragazzo? Che gli hanno negato un'identità, che gli hanno negato un nome. Che ce lo hanno fatto credere morto e che ora si indignano perché la verità è venuta fuori. Avvocato, questa è una ringa. Ci sono ancora parecchie cose da chiarire prima di arrivare alle conclusioni. Forse posso aiutare io a chiarire. Presidente, il professor Lorenzi chiede di essere riascoltato. Presidente, il test è presenziato in aula per tutta l'udienza. La sua parola rischia di essere soggetta a parzialità. Secondo la procedura... Avvocato Giusti, proprio lei mi viene a parlare di procedure. Per tutto il dibattimento ha fatto le domande al posto mio. Fatelo venire qua. Le ricordo, professore, che lei è ancora sotto giuramento. Fin dall'inizio credevo che per lui non ci fosse nulla da fare. Ma poi, ogni passo verso la guarigione, ho dovuto negarlo prima di tutto a me stesso. Perché il mio silenzio è stato d'oro. Mi ha permesso di fare una brillante carriera. Che cos'è un silenzio? In cambio della benevolenza di una delle famiglie più potenti di Milano. Professore Lorenzi, lei si rende conto del peso delle sue rivelazioni? Sì, ma non possa più stare zitto. Sorella Alberta sapeva la verità su quel ragazzo. Anzi, fu chiamata a dirigere quell'orfanotrofio proprio perché la signora Villoresi aveva bisogno di qualcuno estremamente fidato a cui affidare la gestione di quel suo caso. La signora Villoresi era d'accordo con sorella Alberta fin dall'inizio. Non è vero. Io non ero d'accordo con lei. Io, io ero succube di lei. È sempre stato così, fin dai tempi di Tures. Lei, lei mi ha sempre vessato, manipolato. È stata lei a obbligarmi a fare la spia con le mie compagne di scuola. Altrimenti mi avrebbe frustata. Venga fuori. Io non c'entro niente. È lei la causa di tutto, soltanto lei. È stata lei a strappare quella pagina. Dignelo, diglielo che sei stata tu, diglielo. Dignelo che mi hai rovinato la vita per la tua voglia di vendetta. Signora Villoresi, l'avverto che dopo le rivelazioni del professor Lorenzi la sua posizione è cambiata. Qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro di lei. Quindi da questo momento ha diritto di tacere. Ha qualcosa da replicare, reverenda madre? Sono stata io a strappare quella pagina. Volevo far trionfare la verità. Perché io ho solo servito alla verità. Volevo ridare a questo ragazzo una famiglia, una vita. E così è stato. Volevo che gli inganni di Olga Villoresi fossero scoperti e la verità venisse alla luce. E così è stato. A te. A te ho permesso di studiare musica e di farti capire che la tua vocazione era fasulla. E a te ho permesso di laurearti. E a tua madre l'ho tolta dal marciapiede. E tutto questo l'ho fatto io per voi. Perché allora amano tutti te? Perché tutti continuano ad amare te? Dopo tutto quello che io ho fatto per loro. In nome del popolo italiano, la seconda corte d'assise di Milano, visto l'articolo 479 del codice di procedura penale, assolve l'imputata Rosanna Ranzi dai reati di cui agli articoli 571, 572, 603, 643, 610 e 385 del codice penale perché i fatti non sussistono. L'udienza è tocca. A presto. Celestina si decise finalmente a togliersi quel velo ormai ingombrante e a sostituirlo con uno più adatto ai suoi desideri. Sorella Alberta ha molto tempo per riflettere nel posto in cui si trova rinchiusa adesso. Sta pagando per le sue cattive azioni, ma non credo che riesca a rendersi conto veramente di tutto il male che ha fatto. Stefania ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata. Ha una famiglia, una bella bambina ed ha aperto uno studio legale assieme al marito. Fabrizio si è laureato in letteratura inglese con 110 e lode. Nessuno dei suoi professori si è mai reso conto di chi fosse prima Fabrizio. E questo è il suo più grande motivo di orgoglio. Io sono stata riammessa all'insegnamento in conservatorio. Sto in mezzo ai ragazzi e sono felice di aiutarli quando posso. Ma per quanto mi sia difficile ammetterlo, io credo che sia Celestina con la sua umanità, sia Fabrizio col suo profondo ottimismo, sia Stefania con la sua caparbietà, forse debbano in qualche modo qualcosa a sorella Alberta.